Importante appuntamento domenica 28 aprile a Parco Santo Spirito con il patrocinio del CONI e la collaborazione dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport si terrà la terza edizione dell'evento denominato Multisport. La manifestazione si terrà per l'intera giornata e verrà divisa in due fasce orarie, la prima dalle 10 alle 13, la seconda dalle 17 alle 20. Tra le associazioni presenti ci saranno la Sandro Abate, compagine che sta cercando di conquistare la massima serie di calcio a 5, la Bellino Rugby, l'Axi 90, squadra di basket, l'Accademia d'Alessandro e tante altre società sportive che sono pronte ad aderire ad una manifestazione che può avvicinare giovani ed adulti allo sport. Una iniziativa lodevole che si spera possa far sviluppare anche alcune discipline considerate sul territorio minori.